Noi, Ordini e Avvocati di Matera, siamo stati tra i primi a istituire l'organismo di mediazione che prevede la legge, al quale è demandato il compito per l'appunto di collaborare con la giurisdizione, quindi i giudici, e esperire il tentativo di mediazione, che è quello di tentare, prima che la lite poi tracimi nelle aule giudiziarie, di trovare una composizione bonaria. È un procedimento snello che è retto da pochissime regole e soprattutto regole che nulla hanno a che vedere con le regole del processo. Per l'Avvocato invece ci sono gli stessi doveri, doveri amplificati proprio da un ruolo che ancora di più esalta il compito, la funzione che la nostra Carta Costituzionale assegna all'Avvocato e che è quello di essere cerniere insostituibile, mediatore insostituibile tra i cittadini e il mondo della giurisdizione. Grazie.